Qualcosa si muove. La recente giornata regionale sulla sicurezza stradale ha dimostrato come anche in Umbria, seguendo un trend che riguarda l'intero stivale, gli incidenti stradali mortali sono in calo, ciò dimostrato nei dati che hanno reso noti i servizi di epidemiologia dei dipartimenti USLUmbria 1 e USLUmbria 2, come probabile conseguenza delle politiche europee e nazionali applicate nel corso degli anni per la sicurezza stradale, risultati che concordano con il crescente aumento dell'uso dei dispositivi di protezione individuale. L'applicazione della legge ha avuto un effetto di responsabilizzazione e di deterrenza, di responsabilizzazione perché abbiamo avuto una maggiore attenzione da parte delle procure della Repubblica e delle forze di polizia nella presa in carico dei procedimenti penali, in particolare nei confronti dei criminali stradali, cioè di coloro che guidano in stato di alterazione psicofisica da droga ed alcol e di coloro che azzardano la guida. Dall'altro lato si sono incentivati i controlli, però quello che è stata l'importanza della legge dell'omicidio stradale è stato un inasprimento delle pene per chi è veramente una persona che non ha una percezione sociale dell'altro, ovvero sia che si metta la guida disprezzando il valore della vita. Un aspetto che richiama in primis la guida in stato di ebrezza. In Umbria l'8% dei guidatori tra i 18 e i 69 anni ha dichiarato di essersi messo al volante dopo aver bevuto almeno due unità alcoliche nell'ultima ora, mentre il 6% ha dichiarato di aver viaggiato in un veicolo guidato da un conducente che, nell'ultima ora, aveva bevuto almeno due unità alcoliche. Si tratta di un'abitudine che riguarda più gli uomini che le donne e che è in linea con il dato medio nazionale. La fascia di età dei neopatentati, ovvero tra 18 e 24 anni, sembra essere maggiormente consapevole sul tema rispetto alla fascia tra i 25 e i 50 anni. Per questo serve ancora un ulteriore upgrade che sono chiamate a compiere, soprattutto le nuove generazioni, al fine di essere in linea con i numeri di portata europea. Siamo ben lontani dall'obiettivo europeo di dimezzare del 50% entro il 2020 la strage stradale. Occorre fare di più e soprattutto aumentando i controlli e le dotazioni delle forze di polizia sulle strade, ma soprattutto i controlli e soprattutto prevenzione. Noi non dobbiamo far sì che l'incidente accada, per cui occorre anche contrastare questo fenomeno culturale, per cui ci si può permettere di circolare per strada magari abusando di sostanze, abusando di alcol. E quindi è qualcosa che riguarda soprattutto i giovani. Quello che dobbiamo cercare di fare insieme è di fermare la strage stradale dei giovani, perché gli ultimi dati ci fanno capire che la strage sta colpendo molto di più giovani rispetto a prima. Altro punto focale è quello relativo alla distrazione alla guida, dovuta principalmente all'uso di cellulari e smartphone in auto, situazioni che si possono evitare, soprattutto sensibilizzando la tematica. La distrazione alla guida causata dall'uso delle apparecchiature elettroniche, di smartphone in particolare per la messaggistica, sta causando un altissimo numero di feriti e di morti. E quindi occorre veramente sviluppare delle campagne di informazione e di prevenzione che disincentivano l'uso dello smartphone alla guida.